Buongiorno e benvenuti all'erbolario. Mi chiamo Isabel e oggi con l'arrivo delle belle giornate scopriamo insieme come preparare la pelle all'esposizione solare. Come prima cosa, almeno un mese prima di esporci al sole, è importante iniziare una buona strategia antiossidante che ci aiuti a ottenere una bronzatura intensa e luminosa il più velocemente possibile. Per ottenere questi risultati prepariamo la pelle con due prodotti specifici che agiscono dall'esterno e dall'interno. Il siero anti-age protettivo prima e poi dell'erbolario e l'integratore erbamea carosole plus. Il siero anti-age protettivo prima e poi ha una consistenza leggera ed è ideale per tutti i tipi di pelle. La sua straordinaria azione protettiva e antiossidante è dovuta all'estratto di polpa d'anguria del deserto del Calari, un frutto che cresce in un clima molto arido, capace di trattenere acqua e produrre sostanze che l'aiutano a proteggersi dai raggi del sole. Ora applichiamo 4-5 gocce di prodotto nel palmo della mano. Riscaldiamolo e stendiamolo sul viso, collo e décolleté con lievi pressioni sia al mattino che alla sera, prima della crema di trattamento abituale. Se lo utilizziamo prima delle vacanze, quando siamo ancora in città, prepara la pelle a conquistare la tintarella desiderata e applicato direttamente prima della crema solare, offre una difesa ancora più completa contro i segni di invecchiamento precoce. Inoltre, se lo applichiamo subito dopo l'esposizione, idrata intensamente e dona sollievo ai piccoli rossori diffusi, senza dimenticare che il complesso attivatore di melanina favorisce una bronzatura più intensa, uniforme e duratura. Per ottenere un'azione sinergica ancora più efficace però, aiutiamo la pelle anche dall'interno e prepariamola con l'integratore alimentare Carosole Plus di Erbamea. La sua formula con estratti di carotenoidi favorisce la bronzatura e riduce la comparsa di eritemi solari, mentre il mix antiossidante protegge la pelle e gli occhi dai danni dei raggi UVA e UVB. Ricordiamoci che l'assunzione deve iniziare almeno un mese prima dell'esposizione. Una capsula al giorno, subito dopo il pasto e la bronzatura sarà perfetta e duratura. Prima di partire però, non dimenticate di mettere in valigia la crema solare con l'indice di protezione più adatto al vostro tipo di pelle.